Finisce nei guai anche un 35enne di Gela nel corso dei controlli effettuati dal nucleo tutela lavoro dei carabinieri nell'Agrigentino. A Sambuca di Sicilia i militari dell'arma hanno denunciato a piede libero l'amministratore di un'azienda edile, appunto un gelese di 35 anni, dopo aver accertato la presenza in un cantiere di tre lavoratori in nero su un totale di 11 operai. Ma non era l'unica violazione accertata dai carabinieri, visto che in base agli accertamenti compiuti dagli investigatori è emerso che il cantiere non era recintato. Quindi, oltre alla denuncia a piede libero alla procura di Sciacca per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per l'impiego irregolare dei tre lavoratori, sono scattate sanzioni e ammende per quasi 70.000 euro. I carabinieri hanno anche eseguito dei controlli nel cantiere che un'altra impresa edile, stavolta di Canicattì, aveva avviato nel centro storico di Castro Filippo. In questo caso sono state riscontrate la mancata presenza di dispositivi di protezione individuale per gli operai, oltre all'assenza di servizi igienici, della recinzione del cantiere e anche l'installazione di un ponteggio non irregola. E quindi è scattata la denuncia a piede libero alla procura di Agrigento per il titolare dell'impresa, un uomo di Canicattì, per le accuse di omessa sorveglianza sanitaria, mancata installazione di servizi igienici, omessa recinzione del cantiere e utilizzo di ponteggio non a regola d'arte.